Siamo alla foto del giorno, la donna che stiamo vedendo in questa foto si chiama, eccola qua, eccola, arriverà, Rosaria Rampin, che è un'imprenditrice lombarda di Casate Novo, no, ancora non la vediamo, ma la vedremo, abbiate fiducia, è titolare di un'autoscuola in un piccolo centro in provincia di Lecce, ma è soprattutto la prima italiana ad essersi occupata nei paesi islamici della formazione di donne che vogliano diventare istruttrici di guida. Vabbè, insomma, ve la raccontiamo perché vale la pena di raccontarla. Rosanna è partita a novembre per l'Arabia Saudita, tornerà a fine febbraio, tre mesi per un progetto che fa parte di un programma molto più ampio di apertura verso il mondo femminile. Fino a cinque anni fa alle donne saudite era concesso, eccola qua, era concesso di mettersi al volante solo con un componente della famiglia maschile accanto. Adesso le donne possono guidare anche i taxi, insomma, a piccoli passi fuori dal Medioevo. Bene, benissimo, di questo siamo felici.